In campagna elettorale si è parlato molto della possibilità che il Presidente eletto non abbia una maggioranza valida della metà più uno in Consiglio. Questo rischio di ingovernabilità è concreto e reale e si può verificare? Questo rischio c'è sia sotto un profilo giuridico che sotto un profilo politico. Il profilo giuridico è perché la legge 108 che noi continuiamo ad applicare era stata pensata con la possibilità, al fine di garantire una governabilità, di avere dei seggi aggiuntivi. Adesso, invece, a seguito anche di modifiche del nostro statuto, ma anche di interventi a livello normativo statale, non è più possibile prevedere che scattino dei seggi aggiuntivi. L'altro motivo è quello politico perché ovviamente in un sistema bipolare è più facile che venga garantita la governabilità, invece in queste elezioni siamo in presenza di un sistema che possiamo in parte definire tripolare, comunque con tre sistemi politici che ovviamente possono in qualche modo far influire ancora di più il rischio di non governabilità. Ecco, dal punto di vista normativo si sarebbe potuto fare qualcosa che non è stato fatto nella nonna legislatura per evitare questo inghippo, questo problema eventuale? Ma fermo restando che non si poteva ovviamente prevedere un meccanismo che garantisse dei seggi aggiuntivi, si poteva eventualmente intervenire sulle soglie di percentuali al fine di garantire questo sistema. Grazie a tutti.